Libro venticinquesimo delle Dionisiache, siamo a metà di questo percorso stupendo e non a caso questo grande scrittore che è nono di Panopoli eleva il suo canto in un modo ormai molto vicino ad Omero, sembra veramente Omero nel canto venticinquesimo dove paragona la grandezza di Dioniso a quella di due altri grandi eroi, Perseo ed Eracle. Perseo ed Eracle, che erano parenti perché Eracle è la tredicesima generazione dopo Io e Perseo è un antenato di Eracle. Quindi continua in questa visione ermeneutica del mito per cui le divinità sono grandi eroi divinizzati, per cui lo stesso Dioniso ha un percorso eroico giovanile, la grande spedizione contro gli indiani di cui stiamo trattando e qui Nonno di Panopoli vuole dimostrare, cantando, cantandolo col tono epico, avvicinandosi molto alla grandezza di Omero, che Dioniso è più grande sia di Perseo che di Eracle. In cosa si discossa da Omero? Chiaramente lo stile, qui abbiamo uno stile barocco, c'è stato l'ellenismo, si sente, non c'è quel equilibrio asciutto, certe volte anche Austero, del pur estremamente ricco, della prosa estremamente ricca di Omero. In Omero c'è un equilibrio che bisogna aspettare Lariosto, bisogna aspettare Dante per ritrovare un equilibrio di quel tipo. In Nonno di Panopoli c'è sempre il grande mito, il racconto per immagini, il racconto eroico, il racconto delle stelle, tutto il cosmo riassunto nel mito, in questo caso ricapitolato nelle vicende di Dioniso, ma c'è una sovrabbondanza, c'è un po' un disordine interno nel racconto che ci fa parlare di barocco, di elenismo, in questo senso. Quindi il canto XXV inizia con una simbologia, la simbologia del VII, e fa un parallelo esplicito con la guerra di Troia. Come la guerra di Troia è durata dieci anni, la guerra contro gli indiani dura addirittura sette anni. Dioniso nasce il settimo mese, la lira, la cetra, e Dioniso è Dio anche della musica, ha sette corde, per cui c'è questa simbologia che è sia a Polline, ma in questo caso è declinata nelle Dionisie che ha la Dioniso. Nel confrontare Dioniso con Perseo e con gli altri eroi, soprattutto Eracle, il confronto, la tecnica retorica usata dal nonno di Panopoli per dimostrare la superiorità di Dioniso, la superiorità eroica di Dioniso è molto semplice, in quanto si concentra sulla differenza fra le imprese, fra il carattere individuale, individualista delle imprese di Perseo ed Eracle. Perseo vince la Medusa, quindi è un singolare attenzione. Poi è aiutato, è aiutato da Atena che gli dà lo scudo riflettente, è aiutato da Ade che gli dà l'elmo dell'invisibilità, e da Hermes che gli dà il falcetto. Invece Dioniso viene celebrato, rispetto agli altri eroi, come un eroe da una parte solitario, che combatte da solo con le sue forze, dall'altra un eroe panico, cosmico, per cui è lui che trasmette l'energia magica alle baccanti, ai sileni, ai satiri, ma è lui che affronta da solo i giganti. Viene ripreso molto il tema di Dioniso, uccisore dei giganti, e Dioniso che è il regista unico, il regista esclusivo del suo stesso esercito, del suo stesso corteo, e quindi sconfigge interi popoli, interi eserciti, come quello degli indiani. Quindi, come dicevamo prima, è un Dioniso che ricapitola in sé anche l'epopea di Alessandro Magno, certamente Perseo e Herak hanno molti punti di contatto, in quanto come Dioniso sono eroi dell'esplorazione, eroi viaggiatori, che giungono ai confini del mondo. Perseo attraversa tutto il mondo, dal polo nord al polo sud, dalla Gorgone e dagli Iperborei, fino all'Etiopia, quindi agli estremi confini australi del mondo. Erak, e anche lui, ancora di più, va dall'Ade alla Scizia, alle Speridi, alla Libia, all'Egitto, quindi attraversa anche lui tutto il mondo, e Dioniso va dove sorge il sole, verso oriente, ma attraversando il Caucaso più volte, e quindi è anche lui un eroe viaggiatore ed esploratore. Quindi Nonno di Pronopoli evidenzia questo aspetto cosmico, universale, di Dioniso, che guida una guerra sia terresta che marina, che miete fasci di giganti anguicriniti, e fa un parallelismo molto simbolico, molto bello, in questo è sempre assolutamente scientifico all'interno della mitografia, Nonno di Pronopoli, perché dice che come Perseo agisce sotto la luna, Dioniso agisce alla luce del sole, cioè associa l'impresa di Perseo alla luna, e questo è corretto mitograficamente, perché Perseo va dagli Iperbori per uccidere Medusa, e gli Iperbori sono sotto il signore di Artemide, sotto il signore della luna, come gli Etiopi sono sotto il signore del sole, e Dioniso invece va verso il sorgere del sole, verso oriente, verso gli indiani, chiamati anche indiani etiopi, cioè bruciati dal sole, per cui viene associato allo stesso sole. E poi si confrontano anche le madri, Danae, la madre di Perseo, e Semele, per cui Danae è certamente illustre, nobile, ma non come Semele, che viene addirittura lei stessa divinizzata e sale a vivere sull'Olimpo. Il parallelismo è molto interessante perché usa anche il linguaggio delle stelle, per cui Andromeda, la sposa, la figlia di Cassiopeia, regina dell'Etiopia, la sposa di Salvata da Perseo e sua donna, Andromeda diventa anche lei una costellazione, ma vicino a lei c'è sempre la costellazione di Ceto, il mostro marino, come se la salvezza dal mostro marino da parte di Perseo non abbia completamente cambiato la situazione neanche nel racconto delle stelle. Viceversa, a livello di stelle, alla figura di Dioniso viene associata quella di Arianna, Ariadne, la pura Arianna, con la cui corona boreale è molto vicino alla stella polare, quindi è una stella, una costellazione molto vicina sia al sole che alla luna, Dioniso è colui che ama le corone e la sua donna Arianna è quindi immortalata come corona stellare, ma non solo, questa corona stellare appartiene come le orse a quel cielo artico che non tramonta mai, è ritenuto particolarmente divino, particolarmente nobile dagli antichi, perché non scendeva mai al di sotto dell'orizzonte zodiacale dell'eclittica celeste. Lo stesso Eracle, il solito discorso, viene un po' paradossalmente smitizzato, ridimensionato come eroe, pur essendo il più grande eroe della Grecia, perché, dice il nostro caro poeta, che la stessa Cirene, che è una ninfa, vinceva i leoni. Le imprese di Dioniso contro gli animali selvatici, scusate, le imprese di Eracle contro gli animali selvatici, sono un gioco da bambini rispetto a Dioniso, che è nato, panico, che è nato, giocando, domando, vincendo gli animali selvatici, e qui c'è l'aspetto, appunto, naturalistico di Dioniso, che è un po' di Dio della vegetazione. L'idra di Lerna viene ridimensionata a serpentello, a nulla di molto lontano rispetto alle vipere che cingono la testa, fin di Dioniso Infante. E si ricorda, invece, un grande gigante, Alpo, dalle cento testa di serpente, vinto dallo stesso Dioniso, e gli stessi capi degli indiani, re dei Riade e Oronte, già sconfitto, vengono descritti come giganti. Addirittura, l'autore dà, il nostro poeta dà la misura, Oronte e dei Riadi sono alti 20 cubiti, cioè 10 metri, dei veri e propri giganti. Viene ricordata la vittoria di Dioniso contro l'idaspe, contro il fiume Sacro, che ricorda, appunto, la vittoria di Achille contro lo Scamandro, e si parla persino di un miracolo, di una guarigione prodigiosa, di un indiano, di un vecchio indiano cieco, che si bagna gli occhi con il volto dell'idaspe trasformato in vino, e acquista la vista. Quindi Dioniso è, a differenza delle altre divinità, in questo già cristianizzato, o comunque prefigurazione di Cristo, Dioniso scrive in epoca a prevalenza cristiana ormai, ma certamente, come Mitra, rispetto agli dei classici dell'Olimpo, ha tratti orientali e ha tratti soteriologici. Soteriologici è un dio salvatore. Tutti gli altri dell'Olimpo non sono dei salvatori. Interessante poi l'arrivo di un messaggero, da parte che giunge a incitare la battaglia Bacco, portando il favore di Rea, la sua madre, la grande madre della natura, e giunge Attis, lo sterile Attis, cioè l'Eunuco, l'archetipo dei Corribanti, l'archetipo dei consacrati a Cibele, che durante le feste, certi riti si ferivano e anche si eviravano. Attis è la storia di un fanciullo consacrato a Cibele, a Rea, vergine, ma poi tradisce il suo voto, quindi di fronte alla furia di Cibele, si automutila, si fa eunuco. Ma la cosa interessante qua è la geografia sacra, la geografia sacra, perché Attis arriva consegnando uno scudo magico, con uno scudo sacro, come quello di Chetetida ad Achille, fatto da Efesto, questo è un altro scudo fatto da Efesto, che Rea gli manda attraverso Attis, per incitarlo all'attacco finale contro gli indiani, ma da dove passa Attis per giungere, da Dioniso, che è sull'Idaspe, sull'Indo, passa dalla Scizia, quindi come, se l'esercito di terra e la flotta passano attraverso, non viene descritto chiaramente, ma probabilmente la Mesopotamia, Dioniso stesso e ora Attis, inviato da Rea, da Cibele, passano dal Caucaso, dalla Scizia. Questo è interessante ed è un'ennesima conferma dell'origine probabile caucasica del vino, come conosciuto oggi dall'Occidente, e dello stesso culto di Dioniso. Abbiamo poi un altro elemento interessantissimo, un altro elemento, in quanto Attis parla a Dioniso, incitandolo a riprendere la guerra contro gli indiani, e gli dice tu giri la ruota silente, tu giri la ruota silente di lotta, girare la ruota è il segno del sovrano universale, così gli indiani orientali vedevano la manifestazione del sovrano universale, colui che gira la ruota. Abbiamo poi una descrizione di questo scudo di Efesto, che qui veramente nonno di Panopoli rivaleggia con Omero, ed è una descrizione magnifica, grandissima, meravigliosa, che riassume tutto il carisma e l'anima di Dioniso. Abbiamo uno scudo con al centro la Terra, quindi cosmogonico, la Terra al centro dell'universo, nella visione greca, tolemaica, e poi viene una Terra ancora dantesca, e poi dobbiamo immaginare una serie di cerchi concentrici, i cerchi dei Cieli, cielo della Luna, cielo del Sole, il cielo degli astri, i sette astri. Quindi anche qua uno scudo settuplice, il cerchio della Terra, gli astri, e vi si dà molta importanza poi a Oceano, che circonda lo scudo, alle osse, ai cari celesti, l'ossa maggiore e l'ossa minore, poi viene narrato in questo scudo parlante, in questo scudo cosmico, la costruzione di Tebe, la città sacra, una delle più nobili città della Grecia, la città che sarà poi sede del culto di Dioniso, e da cui viene semile sua madre, e si fa, si sottolinea l'importanza dell'edificazione magica delle mura di Tebe attraverso la cetra di Anfione. Zeto, il fratello di Anfione, costruisce, ma è Anfione che guida le pietre con la sua cetra, come Orfeo, come lo stesso Hermes sotto le mura di Troia. Si ripete poi la rievocazione della figura di Ganimede, figlio di Tro, figura ormai associata al corteo bacchico in quanto la coppa è un elemento fondamentale nel discorso del vino di Dioniso, dei riti di Dioniso. Lo scudo è così cosmico che include anche la Versailles, era, un'era descritta come ancora furiosa, e poi dentro lo scudo c'è una vicenda minore del mito, ma qua ripresa, una vicenda che riguarda Tilo una storia molto simile a quella di Glauco, cioè Tilo viene ucciso da, sta morendo perché un serpente gli sputa il veleno contro, un serpente grande, sembra quasi un cobra nel gesto di sputare il veleno in bocca, una naiade, quindi una ninfa, chiama in aiuto a Tilo il gigante Damaseno, Damaseno, e qui ricorda un po' il gigante Damasio, il cui osso va a sostituire il talone di Achille, questo gigante con un albero uccide questo serpente, ma alla fine arriva la sposa, la compagna di questo serpente, strappa un'erba, il fiore di Zeus viene chiamato, lo mette in bocca fra le narici a questo serpente che stava morendo e il serpente riprende vita, riprende vita e così viene fatto anche con Tilo che torna così a vivere, quindi abbiamo un episodio dove al centro c'è il serpente che fa parte del Corredo Bacchico, un serpente in questa sua valenza semantica ambivalente, in questa semantica ambigua e duplice come tutti i grandi segni, cioè dà la morte ma anche la vita e la guarigione, c'è un aspetto anche taumaturgico non indifferente da non dimenticare riguardo il mondo di Dioniso. Viene ricordato poi Cibele, una Cibele giovane, quindi Rea che dà la pietra a Kronos al posto di Zeus, pietra poi emetica perché fa risputare a Krono tutti gli dei che ha divorato. Quindi uno scudo meraviglioso, Attis lo consegna incitando Dioniso a concludere questa sua grande epopea gloriosa contro gli indiani e poi Attis ritorna in Frigia passando dal Caucaso, passando dalla Scizia, dall'alto, non dal basso, non dalla Persia, dalla Mesopotamia. Quindi Dioniso invade l'India dalla Scizia e dal Caucaso. questo è molto interessante, molto interessante che sia Attis a portare lo scudo a Dioniso e molto interessanti sono tutte queste storie e queste stelle raccontate dallo scudo, la costruzione di Tebe, abbiamo visto, e il ruolo fondamentale cosmogonico di grande madre, grande nutrice svolto da Reo rispetto a tutti gli Olimpi. Quindi Dioniso si mette in una posizione speciale in quanto ultimo figlio prediletto di Rea, quasi in una posizione di appunto rinnovazione del Cosmo e del Creato rispetto agli alti Olimpi salvati da Rea e quindi così si conclude questo canto quindicesimo veramente magnifico e molto omerico.